Ciao amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong delle mani. Qigong delle mani prevede l'utilizzo delle mani per fare dei movimenti semplici che aiutano i nostri organi interni. È Qigong quindi a portata di tutti e può essere utilizzato in qualsiasi momento, che stiamo guardando la televisione, piuttosto che stiamo in ufficio o piuttosto che stiamo in un'altra situazione anche più rilassante. Ma è un Qigong che può essere svolto soprattutto da quelle persone che per problemi, ad esempio le gambe, non possono praticare il Qigong in piedi. I movimenti sono semplici ma efficaci e ci aiutano a prevenire alcuni disturbi e a curare i disturbi in corso. Oggi ci occupiamo di due esercizi con le mani che servono ad alleviare e eliminare il mal di testa. Il secondo esercizio è indicato inoltre anche nei casi di mal di denti che accompagnano il mal di testa. E seguitemi nel primo esercizio. Allora, mettete le mani con i palmi rivolti verso l'alto e battete semplicemente così. Bisogna andare a colpire tra di loro, quindi questa parte del palmo e il dito mignolo. Si suggerisce di fare, di effettuare almeno 60 ripetizioni. Le ripetizioni possono essere portate anche a più di 60, anche 100 andrebbe molto bene. Facciamo un po' di pratica insieme. La respirazione è libera. Cominciamo. Le mani di fronte al tetto. Questo esercizio provoca il riscaldamento di questa zona che andiamo a percuotere dove scorrono dei meridiani. Quindi, di fatto, andiamo a stimolare il flusso di energia in un determinato meridiano che contribuisce ad alleviare il mal di testa. Stop. L'altro esercizio può essere utilizzato per alleviare il mal di testa ed anche per alleviare il mal di denti. In questo caso, prendiamo le due mani e posizioniamolo in questo modo, e allungando, aprendo il pollice e l'indice, dovremmo andare a percuotere con forza questo punto, questo punto qui. E quindi l'esercizio, che può essere anche stimolato manualmente, questo punto di rigido pressione. Se lo facciamo con il ciclone delle mani, la stimolazione avviene in questo modo. Anche qui le ripetizioni devono essere almeno 60, meglio se 100 ripetizioni, ma anche 200 in questo esercizio. Le mani sempre davanti al petto. Ed ecco fatto. Prendiamoci qualche respiro per rilassarci, dopo aver fatto questi esercizi di ciclone delle mani. Gli esercizi possono essere ripetuti anche più volte nel corso della giornata. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividetelo. Se lo ritenete anche utile, avendone riscontrato i benefici, potete darmi dei commenti sotto al video. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, mettete la campanella se volete essere allertati sui nuovi video che farò. E quindi vi saluto alla prossima pratica. Grazie, ciao! Grazie a tutti.